1.400 ebrei uccisi giustificano le bombe su Gaza? Io penso che non giustifichi niente le bombe che cadono a pioggia sui civili, soprattutto quando siamo davanti ad una popolazione che è chiusa, in un fazzoletto di terra senza poterne uscire una delle aree più densamente popolate del mondo e in cui il 40% della popolazione sono minori, non dimentichiamolo. Io credo che bisogna, ho ascoltato prima le parole di Minniti che ricordava che una democrazia deve trovare l'equilibrio tra la forza della risposta e il principio di umanità. Ecco, mi sembra che non ci sia niente di umano in quello che stiamo vedendo, nel vedere colpite le scuole, nel vedere colpito un campo profughi, come quello di cui avete mandato le immagini questa sera. Ecco, io credo che davanti a tutto questo, ancora più forte deve essere la richiesta di un cessato il fuoco perché si possano liberare gli ostaggi, perché si possa portare aiuto umanitario alla popolazione di Gaza. Le dico un dato, Formigli. Leggevo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che prima del 7 ottobre arrivavano circa 500 camion al giorno di aiuti umanitari alla popolazione palestinese che già avversava in una condizione umanitaria drammatica. Dal 7 ottobre oggi hanno potuto fare accesso soltanto 217 camion. Ecco, questo non è accettabile. E noi torneremo a insistere per una conferenza internazionale di pace, come ha chiesto anche Sanchez in questi giorni. Però prima di arrivare al ruolo anche del suo partito,